Grazie, grazie, speriamo che non finisca, fermi ragazzi! Come stai? Sì, Gaffi! Ciao, ciao, salve! Domani ci sarà la firma del contratto tra lei e Salvini a Milano? No, non mi risulta sta cosa qua. No? Quindi vi vedete ma non arriverete già da qui. Domani dobbiamo andare avanti col contratto, speriamo di finire il prima possibile ovviamente, ma non anticipo nessun esito per ora. A proposito di temi, flat tax e reddito di cittadinanza, per lei non sono difficili da attuare? Entro il 2019 ha detto ieri l'onore. Nulla è difficile se lo si vuole. Non le sembrano in contrasto questi due temi? No, per fatto, ridurre le tasse è sacrosanto e allo stesso tempo dare un reddito. La domenica andrete al Curinale? No, la domenica salirete al Curinale. Grazie. 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 Grazie.